Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Padova ha sgominato un sodalizio criminale responsabile di una frode fiscale da 5 milioni di euro. L'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova ha portato a 40 perquisizioni in società e abitazioni, in varie province del Veneto, ma anche fuori regione. Era un giro vorticoso di fatture per operazioni inesistenti che permettevano poi alla fine di evadere le imposte sugli oli lubrificanti, quindi le accise, e l'IVA sia sugli oli lubrificanti che invece sul carburante d'autotrazione. L'organizzazione ha introdotto e commercializzato in Italia 4 milioni e 500 mila litri di olio lubrificante evadendo imposte di consumo per 2 milioni di euro, nonché ha introdotto ingenti quantitativi di carburante evadendo l'imposta sul valore aggiunto per quasi 3 milioni di euro. Un'organizzazione studiata nel dettaglio che si avvaleva di varie società cartiere attivate ad hoc fuori dal territorio nazionale, in altri stati dell'Unione Europea. Sì, devo dire che ormai nelle nostre indagini il leitmotiv è questo, cioè il fatto che comunque ci sono sempre più implicazioni che riguardano anche altri stati membri dell'Unione Europea se non addirittura realtà esterne all'Unione Europea come i paradisi fiscali. Alcune società si avvalevano di prestanome, uomini trovati tra persone non abbienti o alcolizzate, strumenti in mano a chi gestiva le file del traffico. Diciamo che è stata scoperta davvero un'organizzazione molto articolata, abbiamo detto circa 40 perquisizioni, 27 indagati, un arrestato, quindi assolutamente sì. A capo dell'organizzazione un uomo di 58 anni di teolo, ora agli arresti domiciliari. L'uomo, ex commercialista, ha subito anche il sequestro di beni per 620 mila euro. L'abitazione, una barca di 12 metri, conti correnti e una cassetta di sicurezza. Nella sua casa sono stati trovati anche 15 mila euro in contanti, probabilmente denaro utilizzato per il traffico. Per ora la stima è a ribasso, è comunque di un'evasione intorno ai 5 milioni di euro, quindi stiamo parlando di evasione pura di imposte per 5 milioni di euro.